Ben trovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teleibrea sul canale 178. Purtroppo il tempo è assolutamente strano, impensabile, sentirete anche delle interviste, perché non è una cosa normale, questo ormai lo sanno tutti quello che sta accadendo, e anche in questo fine settimana, come è stata la scorsa settimana, le previsioni sono assolutamente negative, guardate cosa dice il meteo, sono delle cose che possono leggere tutti andando su internet, sul telefonino, in pratica è stata scelta l'Italia, la penisola e come vedete c'è la B, anzi gira in senso antiorario, perché quando gira in senso antiorario vuol dire che c'è il maltempo e quindi molto probabilmente ci sarà un fine settimana dalle nostre parti brutto. Per quanto riguarda il mare, poi mango a parlarne, sappiamo che in molti coloro che operano nel settore della navigazione, già sanno che fine settimana molti collegamenti non si potranno fare perché il tempo sarà veramente brutto, ma chi se la sta passando davvero male purtroppo sono gli amici del nord, quelli della zona della bassa, la zona delle media romani. Per parlare di questo argomento molto interessante abbiamo telefonato ad un geologo che è proprio lì di quella zona e ci spiega perché è accaduto tutto questo. Sentiamo.